Avvocato Bonsignore, le piccole e medie imprese italiane rappresentano un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, ma quali sono le necessità di cui ancora hanno bisogno e come voi legali potete aiutarle? Le medie imprese italiane spesso hanno bisogno di prepararsi per affrontare i mercati internazionali, hanno bisogno di prepararsi sia come struttura loro societaria spesso, come governance, come struttura del controllo, il rapporto tra la famiglia e l'azienda è cruciale e va strutturato in maniera corretta, è importante prepararsi magari per aprirsi al mercato e aprirsi agli investimenti di terzi, è importante prepararsi come compliance, come controlli interni, è importante prepararsi anche a un rapporto diverso col mondo bancario, col mondo del credito, che non vuol dire rapportarsi soltanto con le banche a cui ci si era portati per anni, ma vuol dire guardare in maniera più strutturata il mondo del credito, vuol dire guardare ad altri soggetti anche internazionali che sono sempre più interessati a finanziare le aziende italiane e quindi vuol dire prepararsi a fare quello scatto strutturale di governance e di management che le mette allo stesso livello con le grandi aziende internazionali.